Marostica, una statua per celebrare il superamento di un periodo difficile causa covid e lanciare un messaggio di speranza e solidarietà. Collocata nel giardino di Porta Bassano all'ingresso est della città, sito scelto in accordo con la sovrintendenza di Verona, la scultura di San Francesco e Lupo, opere in bronzo dell'artista marosticense Luigi Carron, scomparso nel 2006, è stata donata alla città in occasione del ventennale di attività del locale Lions Club. Per un intero pomeriggio il cuore di Marostica si è così animato di arte musica e condivisione.